Frena bruscamente al Cosimo Puttili, la corsa festosa dei ragazzini terribili in casacca nero-verde, in una gara che pure avrebbe potuto avere destino differente. Mister Valeriano Roseto recupera i fidati tigrotti e propone Petrarca a guardia della porta, cintura difensiva con Gomes, Sillette e Tangorre, nel cuore della pugna Clemente con Mariani e Cardore a far legna, Pendolini, Riefalo e Lossesso Chiaradia, davanti il duo Fosforo e Scintille, Maffei e Figliolia. Farina risponde con piersanti fra i pali, Vicedomini e Pollidori, Vigili e Sentinelle, lo iodice di imperversare sulla fascia e la coppia di piazza Lattanzio in attacco. Al settimo, Maffei sgomma sulla sinistra e centra, Mariani viene schermato dalla difesa bianco-rossa e Clemente in mezza girata spiedisce sul fondo. Al diciassettesimo, Artiglio vincente di Lattanzio, sul cuoio smarrito da tutti in area ed è vantaggio Barletta. È il ventesimo, quando Figliolia imbecca Maffei che vede Clemente, Piersanti ne do magevolmente il destro. Al ventitreesimo, Gomez libera Maffei che dribbla e stocca, il piede di Piersanti si rifugia in corner. Subito dopo, Chiaradia dall'angolo stacca Imperiale Cardore ed è uno a uno. Folgore di Vicedomini al ventisettesimo ed è l'immarcabile Eolo, traversa Infrantuni. Poco dopo la mezza, cross da destra di Russo e legno esterno scheggiato. Fattaccio al trentaseiesimo, fallo tattico di Riefolo, Zuffa o Merica, colpo da knock-out di Di Piazza su Figliolia. Ambe due vedono Rosso e Docce anzitempo. Minuto 43, piazzato perfido di Loi Odice, sfera che si vila accanto al palo. Allo scadere saetta di Padalino da brividi per gli ospiti. Pieno recupero, botta tonante di Russo e ancora la trasversale trema. Dopo l'intervallo si riparte e saranno altre emozioni. Minuto 7, cristallo a Scodella e Loi Odice d'un sospiro non becca il bersaglio grosso. All'uno giallo che giallo non è nella metà campo dei padroni di casa. Espulso vicedomini, ultimo uomo su chiaradia in velocità, steso nettamente nei 16 metri. Con i bulbi oculari foderati di pata negra, il signor Monesi di Crotone sanziona una inventatissima punizione dal limite. Sul pallone va l'esterno gravinese che si aggiunge con classe al club dei cecchini delle traverse. A ridosso del quarto d'ora, uscita kamikaze di Petrarca sul russo. Poco dopo la mezz'ora, prima volè dell'indemoniato sette barlettano e prodigio di Petrarca. Subito dopo, però, calcio dalla bandierina e festival delle rovesciate sotto la porta bitontina. Prima ci prova Cristallo, rimedia chiaradia, poi sforbicia Polidori e insacca. E due a uno per i barlettani. I leoncelli dunque si leccano le ferite di una serata iniqua, in attesa di un altro improbocimento col Fasano.